Sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Aversa ad eseguire un provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di dieci indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazioni di tipo mafioso ed estorsione aggravata. L'indagine ha consentito tra l'altro di fare luce su numerose estorsioni ai danni di diversi imprenditori a cui venivano chieste somme di denaro comprese tra i 500 e i 3000 euro in prossimità delle festività di Natale, Pasqua e Ferragusto. I destinatari del provvedimento sono tutti ritenuti affiliati alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi. Ma ascoltiamo il tenente colonnello Vittorio Carrara, comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Aversa. I carabinieri del reparto territoriale di Aversa hanno eseguito un provvedimento di misure cautelari emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, a carico di dieci indagati, nove dei quali sono collocati in custodia cautelare in carcere, uno agli arresti domiciliari. Gli individui sono tutti soggetti censiti penalmente, già noti alle forze dell'ordine, compassati per vicende riconducibili alla criminalità organizzata, sei di loro infatti erano peraltro già detenuti. Rispondono alle reati di 416 bis, quindi associazioni di tipo mafioso, di estorsioni aggravate dalle modalità mafiose. Nella fattispecie, estorsioni commesse nell'area dell'agro Aversano, in particolar modo nei comuni di Parete, Lusciano e Trento da Ducente, in un arco temporale che è ricompreso tra la fine del 2008 e la fine del 2011. Gli episodi estorsivi accertati sono quasi 20, ai danni di imprenditori e commercianti della zona, in particolar modo imprenditori edili, titolari di un supermercato e titolari di una nota impresa di addobbi e luminarie per feste pubbliche.